cari amici del taccuino dovete sapere che la francia ha presentato agli oscar 2016 nella sezione dedicata ai film stranieri una coproduzione con la germania e la turchia a dire il vero di francese mustang ha ben poco turche sono la regista sceneggiatrice la lingua la terra d'ambientazione turco è pure tutto il cast lo stato medio orientale dal canto suo ha invece proposto sivas di can muideci come film candidabile si narra di cinque giovani ragazze lale nur ece selma e sonai che affidate alla tutela della nonna e di suo figlio erol si scontrano violentemente con la rigidezza dei costumi che vengono loro imposti rinchiuse in un'abitazione somigliante più a una prigione che è una dimora privata con alti muri di recinzione e le sbarre alle finestre si tenta con l'aiuto delle attempate vicine di casa di allontanarle da qualunque stimolo possa nuocere alla loro virtù a cominciare dai più comuni strumenti elettronici di renderle efficienti nell'economia domestica e di prepararle ad una propizia vita coppiata il punto di vista privilegiato è quello della sorella minore lale che passando dall'infanzia all'adolescenza sente di dover opporsi con maggior risolutezza e sana impertinenza alla politica dittatoriale perpetrata dagli adulti che la circondano è l'incarnazione di quell'energia richiamata nel titolo che allude alla libertà di spirito di chi corre indomito all'aria aperta per le strade di tutto il mondo verso comunità che comprendano e assimilino con favore le tentazioni naturali che la giovinezza porta con sé in lei si concentra una fantasia particolarmente frezzante e svincolata dalle barriere della realtà effettiva mentre le altre immaginano di poter un giorno unirsi a coloro che invece di essere semplicemente alla ricerca di buone casalinghe ed allevatrici dalla più verde età amano davvero o che anche semplicemente sanno prenderle dalla parte giusta l'ale fortunatamente distante ancora com'è dallo sposalizio osserva con complicità le manifestazioni istintuali che in maniera ostinatamente violenta e miope nel caso dello zio in rassegnato seclio della tradizione in quello dell'anziana signora si vuole reprimere con pugno di ferro violando le speranze delle fanciulle al punto di distruggere per sempre le esistenze di alcune perché non fungire allora in fondo al di là di quelle pareti oppressive non potrebbe forse esserci qualche spirito disposto a venire in loro soccorso ad aiutarle a prendere coscienza di quali diritti armarsi e quali potenzialità sfruttare nel futuro più prossimo lo sguardo di denise gamzer juven se così si pronuncia è condivisibile nel suo entusiasmo abile nel saper catturare con spigliatezza e sapiente selettività le gioie e le tensioni che caratterizzano i personaggi femminili in un'età e in un ambiente così problematici piacciono anche la spontaneità dell'umorismo e delle risposte ai richiami sessuali la dolcezza e l'affetto soffusi sinceri la positività intrinseca della rappresentazione si rispecchia nel montaggio nelle tecniche di ripresa con particolare riservo per incantevoli primi piani nella presenza discreta e pertinente delle musiche prevalentemente nei modi maggiori di warren ellis e nick cave in un calore emotivo che brama respingere con coraggio un destino precostituito e senza possibilità di riscatto non va tuttavia celata una certa frammentarietà nella narrazione che sfugge ad un respiro che si sarebbe potuto rivelare più ampio pur mantenendola già apprezzabile coesione senza comunque nuocere alla chiarezza e alla qualità della vicenda che in definitiva giustifica una lecita distinzione alla kinzande realisateur di can e che si configura come riuscito in quanto convinto e promettente esordio nel mondo della settima arte foto al film tra stelle e mezzo su cinque la pubblicazione dell'articolo corrispondente sul cine runner è linkata qui sotto io vi aspetto con dei poderosi appunti speciali sui prossimi oscar grazie a tutti grazie a tutti